su g.org è disponibile dal 5 giugno 2009 il nuovo camp giunto alla versione 2.6 per installarlo ricamici sull'ftp scarichiamo il file tar e lo estraiamo in una cartera al nostro piacimento arrivato a questo punto lanciamo il terminale ci posizioniamo sulla cartella dove abbiamo estratto il codice sorgenti con il comando cd diamo il comando configure accertiamoci di avere tutte le librerie e i tool necessari per la compilazione dei codici sorgenti nel caso non vi manchino installate li provvedete a configurare in progressione vediamo il comando make e infine il comando sudo make install un avalto ha installato gap lo potete trovare come al solito nel menu video eccolo qua il nuovo plugin gap 2.6 può tranquillamente convertire qualsiasi formato video tipo gli avi e i più richiesti richiesti file video disponibili su youtube per cui il mio consiglio è quello di provvedere alla compilazione e installazione di gap 2.6 in quanto potrete tranquillamente convertire con 4 click i video che scaricherete ci ho detto un saluto da doggo ciao 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 ciao